7 gennaio 2020, ci troviamo qui in via San Giacomo della Vittoria, sono con il professor Manzini per farvi vedere un'altra situazione dove in questi giorni sono avvenuti degli atti vandalici, professore. Sì, a questo punto, come è stato rilevato davanti al negozio di casa Signorelli, non c'è altra spiegazione perché... Guardiamo subito qua le vetrate, qualche resta, abbiamo la porta praticamente sfondata di questo negozio. La porta demolita e i resti delle vetrate ancora qua. Vediamo. Vandalismo più... vandalismo puro, più ingiustificabile di così, cioè il divertimento, il danno, perché non c'è altra spiegazione. Non so, bisognerebbe intervenire, ma anche con interventi piuttosto duri, perché non è più possibile accettare una situazione di questo genere. Perché con l'andare di questo tipo di questione potremmo trovare qualunque situazione, una macchina rovesciata, il portone di casa incendiato, qualunque cosa, non sto lì a esplicitare, potete immaginare. Quindi a questo punto noi chiediamo assolutamente un controllo ferreo della città, anche attività di intelligence, perché queste sono branchi di persone, di ragazzotti, sono individuabili. Sono individuabili. Sono delle... come dire, uno che lavora sulla sicurezza all'occhio per vedere e per prevenire e per intervenire prima e per reprimere. Ecco, a questo punto noi chiediamo solo questo, perché è impossibile. Oggi è successo questo, domani può succedere quell'altro, per la noia più totale... Ma poi una successione di atti vandalisi così, diciamo, ravvicinati tra loro, lascia un po' così... Cioè non è mai successo in Alessandria, ecco, non ricordo almeno. Sì, probabilmente c'è un... non lo so, anche dare letture sociologiche o... uno sbaglia sempre, sicuramente c'è un... Sotto le feste di Natalizia abbiamo fatto il video in Via Dante, professore, ricorda? Anche lì un negozio è stato preso di mera. Hanno preso vino, olio... Cioè non si tratta di vie periferiche dove magari questi vandali sono un po' più agevolati nel loro intento. Qui siamo in vie centrali della città. Certo, no ma a parte che questa via l'abbiamo percorso ormai è un deserto perché pochi esercizi commerciali aperti per cui... Ma a parte questo, è comunque centrale, è comunque trafficata e comunque fa parte della città e quindi come tale deve essere anche tutelata. Lì c'è di fianco alla chiesa, guarda la chiesa... San Giovannino. San Giovannino. Quindi è un pezzo del primo centro di Alessandria. Va bene, noi abbiamo lanciato questo segnale, speriamo che venga... Intelligence. Se ci sono anche situazioni di precarietà nelle forze dell'ordine, si mandino le persone in borghese. In alcune città d'Italia esiste il controllo del vicinato. Sono dei cittadini che si adoperano nel controllare il loro quartiere collegandosi con le forze dell'ordine. Non lo so, ma... Una sorta di ronda, professore. Ma dobbiamo arrivare a questi livelli qua? No, no, no. Assolutamente. Qui devono intervenire coloro che sono preposti a farlo. Esatto. Io dico prevenzione, come dire, occhio vigile, non solo videocamere, ma anche occhio umano. Preferirei, oltre agli uomini in divisa, che sono di per sé deterrenti, anche uomini in borghese, che sono assolutamente più difficili da individuare. Allora, arrivederci e... Svegliati, Alessandria. Siamo ormai fuori dalle feste. Svegliati, Alessandria, e arrivederci.